Tutti i videomatori e tutte le videomatrici di Senza Fissa Dimore, benvenuti in questo nuovo video. Servitevi un tè, un caffè, mettetevi comodi nella vostra poltrona preferita, allacciate bene le cinture di sicurezza perché oggi parliamo di responsabilità, cioè dell'abilità di dare risposte. Nella società della deresponsabilizzazione, essere responsabili è un atto rivoluzionario. Siamo oramai talmente tanto abituati a non avere nessuna responsabilità che abbiamo perso completamente di vista tutti gli effetti non secondari che ha su di noi applicare la responsabilità, essere responsabili delle proprie azioni. Pensateci un po' di quale aspetto della nostra vita siamo veramente responsabili. Alcuni di voi mi potranno dire, ma Davide, non è così, siamo molto responsabili delle nostre azioni. Tutti i giorni, nella vita quotidiana, in una visione sommaria e forse anche un po' superficiale, in effetti sì, lo siamo. Se commettiamo un reato, se violiamo la legge, se facciamo un danno, paghiamo direttamente, con la nostra responsabilità, il prezzo del nostro errore. Siamo, tra virgolette o meno, costretti a riparare al danno. Ma in questo caso trattasi in grandissima parte di denaro o di tempo. Tempo in che dovremmo passare eventualmente in un carcere se abbiamo commesso un reato grave o denaro che dobbiamo pagare per sostanzialmente riparare al danno fatto. In entrambi i casi, però, soprattutto poi quello del denaro, il denaro in sé acquisisce un ruolo di responsabilità. Cioè noi de-responsabilizziamo al denaro l'atto stesso di riparare al danno fatto e de-responsabilizziamo al tempo nostro, alla nostra vita, ciò che abbiamo commesso come reato. Ma in realtà, e questo è un argomento amplissimo, il carcere stesso, l'esempio più grande di de-responsabilizzazione sociale, si viene allontanati da tutto e da tutti. Spesso la persona danneggiata, o comunque vittima, non avrà in nessun modo la possibilità di essere risarcita direttamente da chi ha commesso il reato. E altrettanto spesso verrà addirittura vietato anche solo di avvicinarsi, essendo di fatto molto più comodo non vedere, mettere un po' sotto al tappeto il problema sociale, non farlo discutere alla società, quindi al popolo stesso, non prendere nessuna contromisura perché ciò non si ripeta, ma semplicemente isolarlo, non vederlo più. Non siamo oramai più responsabili neppure dell'educazione dei nostri figli, deleghiamo l'educazione a qualche di un altro. Non lo siamo per il nostro lavoro, deleghiamo al datore di lavoro che ci dica ciò che dobbiamo fare, quando lo dobbiamo fare, perché lo dobbiamo fare. Non siamo neppure responsabili oramai neanche della nostra salute. Si delega a qualche di un altro, a un uomo con un bel camice bianco, qualche diploma appeso alla parete dietro di lui, la sentenza se noi siamo malati o sani. Cosa che è in verità, e questo lo va preso come esempio, come stereotipo, tutti questi sono esempi anche estremi per farvi capire, contestualizzare il ragionamento che volevo portare oggi, e cioè proprio quello che lo stesso medico si deve prendere la responsabilità di dirvi se siete malati o sani, quando in realtà l'unica persona che lo può saperlo siete voi. Ma la deresponsabilizzazione oramai è culturale e ruota su un fattore fondamentale dell'essere umano, la sua totale incapacità a capire, a razionalizzare le conseguenze dei propri atti, soprattutto quelle a lungo termine. Non ne siamo quasi per nulla capaci. Siamo invece molto capaci, se si vuole, a rispondere alle informazioni, cioè avere una abilità a dare risposte. Questo è il significato vero, l'etimologia della parola responsabilità, abilità a dare risposte. Nel caso specifico, response, sarebbe più simile a far ritornare indietro l'informazione. Noi riceviamo un'informazione e reagiamo a questa informazione, a volte con un'altra informazione, a volte con un atto fisico, un movimento, una reazione. Un fattore determinante per la sopravvivenza è proprio la capacità a dare risposte e ruota anche sul fattore temporale, cioè la rapidità che abbiamo a dare le giuste risposte. E qui la programmazione, cioè per quello che noi siamo abituati a pensare al significato di una determinata parola, di una determinata informazione, è fondamentale. E provare a deprogrammarsi un po' può aiutare a prendere una certa distanza dalla nostra reazione, quindi dalla nostra capacità a dare risposte anche nel breve termine. Perché dico nel breve termine? Perché in tantissimi casi non si ha il tempo di dare una risposta, cioè non è difficile prendersi il tempo. E questo dovrebbe essere il primo fattore. Si dovrebbe forzare se stessi a prendersi un tempo per dare una risposta a un qualsiasi input esterno. Che ci troviamo al supermercato a riempire il carrello della spesa, guardiamo attorno e riceviamo tutti questi input, informazioni, suoni, colori, odori. La nostra capacità a reagire a queste informazioni esterne ruota necessariamente attorno sulla nostra reazione, cioè sulla nostra risposta all'input esterno. Ma questo avviene anche in un momento di crisi, ad esempio, o durante un avvenimento estremo. Faccio due esempi un po' forti per farvi capire che in questo caso il responsabilità ruota attorno a un certo carpe diem, cioè stare nel momento per essere abili a dare risposte. E l'abilità, in questo caso, che deriva anche da homo habilis, è strettamente legata alla sopravvivenza. Cioè, in teoria e anche in pratica si è visto nel tempo dell'evoluzione umana, non intesa evoluzione darwiniana, ma intesa proprio come la nostra specie presente sul pianeta da tante decine di migliaia di anni, la capacità che abbiamo a dare delle risposte è molto, molto simile anche alla definizione di intelligenza. Cioè, la nostra intelligenza sostanzialmente è l'abilità a dare le risposte giuste in un momento di crisi, perché spesso è legata alla nostra sopravvivenza. Ed è una capacità innata dell'uomo, talmente tanto forte che, come abbiamo visto in tantissimi casi, ci permette a noi come specie o anche ai singoli individui di uscire dalle situazioni più difficili, quelle più estreme, come può essere, vi rivengo ad esempio all'alluvione che ha toccato l'Emilia Romagna, quando voi pensate a persone che si sono viste invadere da acqua e fango la propria casa, la propria abitazione, l'acqua saliva, 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 quindi invadeva prima la cucina, poi la sala, poi le camere da letto, eccetera, eccetera. In quel momento tutto quello che è materiale diventa superfluo, non ci si preoccupa sicuramente in quel momento delle conseguenze a lungo termine di una catastrofe del genere. Ciò che conta in quel momento è la sopravvivenza e ciò che si darà come risposte a un evento del genere saranno solo risposte volte a sopravvivere, spesso anche volte a far sopravvivere i nostri cari, le persone a noi vicine, fino a sacrificare la nostra vita per salvare quella degli altri, che è la risposta più tragica ma più potente che abbiamo, quella della sopravvivenza della specie. Agli antipodi ci sono ad esempio, cioè all'opposto, c'è ad esempio un atto sconvolgente, catastrofico come può essere stato quello di sganciare le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Chi lo ha fatto a quel tempo erano probabilmente due, tre persone, due, tre piloti su un aereo che hanno sganciato delle bombe atomiche. Erano responsabili di quello che facevano, cioè avevano una visione a lungo termine di quello che sarebbe successo? No. Perché ho questa certezza del no? Perché se avessero in un qualche modo una visione a lungo termine delle centinaia di migliaia di persone che sarebbero morte, bambini, donne, uomini, di centinaia di migliaia di persone morte in pochi istanti, non l'avrebbero mai fatto. Non c'è la capacità dell'essere umano di distruggere con questa rapidità in una maniera cosciente. C'è, esiste questa possibilità perché non si ha la consapevolezza né la conoscenza di quello che si sta facendo. In una scala molto più piccola basta pensare a persone che lavorano ad esempio in grandi corporation, in grandi multinazionali che producono armi o che producono qualsiasi tipo di alimento nocivo o qualsiasi tipo di prodotto chimico nocivo. Chi lo fa nella grandissima parte dei casi non ha nessuna conoscenza, non ha nessuna consapevolezza di quello che sta facendo, non capisce che nel lungo termine la produzione del proprio cingolo, del proprio cararmato andrà a finire necessariamente per uccidere altre persone, altri suoi simili, fino a lui stesso. Perché questa è la vera ruota, è il vero individuo parte di una collettività che è tutto un uno e anche qui la deresponsabilizzazione che è molto legata alla società peramidale, cioè alla società isolata con parti stagni dove quelli che sono sotto non sanno quello che sta facendo quelli che sono sopra che non sanno quello che stanno facendo quelli che sono sopra ancora, quindi le conseguenze dei propri atti non vengono mai presi nel complessivo ma vengono presi solo ed esclusivamente nel singolo, l'uomo con la famiglia che lavora in una determinata multinazionale si preoccupa del suo stipendio, si preoccupa di avere un posto di lavoro, si preoccupa di pagare il mutuo della propria casa ma non si preoccupa minimamente del fatto che quello che sta producendo probabilmente un giorno ucciderà proprio lui e proprio a casa sua. Per questo prendere consapevolezza della propria responsabilità è legata a filo molto molto corto con la nostra capacità di dare risposte a certe informazioni in molti casi a dire no, negare, rifiutare un lavoro, un impiego, un medicinale, uno stile di vita, un prodotto passa per forza dalla nostra programmazione. Deprogrammarsi significa proprio questo, smontare pezzo per pezzo la programmazione, capire perché ci sono certe informazioni che non vanno prese così come sono ma vanno necessariamente smontate pezzo per pezzo, si deve capire quanto c'è di vero, che propaganda c'è nascosta all'interno ma soprattutto le conseguenze dirette nella nostra risposta cioè nel nostro dire sì o no. Uno degli esperimenti più famosi fu quello di Milgram, un psicologo che voleva dimostrare che la dichiarazione famosa e famigerata ai vari processi di certi comandanti del Terzo Reich che dicevano davanti alle accuse della Corte che dice voi avete torturato persone, voi avete applicato le peggiori violenze a persone di tutte le raste non solo in quel caso erano persone giudebre ma di tutte le raste tutte le violenze che avete fatto sono state fatte con la vostra consapevolezza e la risposta di molti loro fu io eseguivo solo degli ordini. Bene, Stanley Milgram ripreso questo esperimento ripreso questa teoria dimostrò appunto che con un esperimento molto famoso che era quello delle scosse alle persone che sbagliavano determinate risposte se non avete visto il mio video dedicato vi appare qui su in alto dategli un'occhiata questa è la dimostrazione ultima del fatto che abbiamo molta difficoltà ad assumere la responsabilità dei nostri atti è un argomento estremamente complicato e anche estremamente personale difficile generalizzare vi invito tutti a darmi la vostra opinione scrivendola nei commenti qui sotto condividete questo video mettete un pollicione in su condividete questo video e iscrivetevi al canale se vi interessano dei temi come questo la deprogrammazione e anche molti altri temi che tratto e se volete sostenermi con un piccolo gesto potete farlo aprendo i link che trovate in descrizione e offrirmi un caffè grazie a tutti quelli che hanno donato e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.